Nuova puntata di City Report, oggi vi portiamo in giro per Lambrate, tutti i posti abbandonati di Lambrate che vi abbiamo fatto vedere negli scorsi anni e che ancora oggi sono in queste condizioni. Ma oggi andremo a fare un po' di servizi, come vedete è abbastanza buio perché li facciamo in notturna perché vogliamo farvi vedere anche cosa succede nella Milano by Night e nella Milano by Night ne succedono parecchie. Andiamo avanti! A presto!